Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come disabilitare per sempre la notifica del Caps Lock sui portatili Acer quindi prima di iniziare voglio solamente dirvi che in alto a destra nella scheda ci sono le altre guide su come disabilitare le notifiche del Caps Lock sui portatili HP e su tutti i PC in generale e ci sono anche le guide nei commenti in primo piano quindi iniziamo prima ad andare sui servizi quindi vai a scrivere servizi servizi scendi fino a giù fino a trovare così il servizio Acer eccolo qua l'Acer Quick Acer Service questo qua tasto destro sopra vai su stop quindi fermi così il servizio ci clicchi sopra una volta cliccato sopra vai a mettere così il servizio disabilitato disabiliti così il servizio una volta che l'hai arrestato chiudi qua e basta e riavvia il tuo sistema operativo se non hai questo Quick Access Service nei servizi è possibile scaricarlo sito quindi su driver e manuali e basta che inserisci qua il numero di serie e il numero del modello del tuo portatile e lo trovi e potrai scaricare tutti i suoi aggiornamenti e il Quick Access se non dovesse funzionare puoi sempre guardare l'altra guida su come disabilitare il Caps Lock su tutti i computer quindi se questo video ti è stato utilissimo su come disabilitare la notifica del Caps Lock per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video cercherò di realizzare un'altra guida a riguardo e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao Ciao